Oggi lanciamo la nuova C3 Facebook Only Limited Edition, è la vera prima social car in commercio. Un brand unico, un'auto unica, un cliente unico, ci hanno in mente di fare una partnership unica. Ed ecco che nasce l'accordo con Facebook per una vettura che ha una particolarità unica sul mercato, una World Premiere che è la Connected Cam. Una telecamera ad alta definizione, perfettamente integrata nella vettura, in grado di registrare tutto ciò che il conducente vede di fronte a sé. I video e le foto che la telecamera registra possono essere poi successivamente condivise sui propri social network. La vettura sarà venduta a un prezzo di prelancio di 15.900 euro ed è una vettura in un'unica definizione, quindi quei colori di Facebook blu e bianca, con uno sticker sul tetto che ricorda appunto il mondo social e ovviamente tutta la tecnologia integrata tra cui ovviamente la Connected Cam.